Dopo il recente riconoscimento dell'arte del pizzaiolo napoletano a patrimonio immateriale dell'umanità UNESCO, è già ricco il calendario di iniziative per festeggiare e valorizzare il legame della città ad un mestiere e un prodotto che ne rappresentano la tradizione nel mondo. Da gennaio a settembre sono in programma diversi eventi dedicati alla pizza ed è stata presentata oggi da comune e associazioni di categoria la proposta di istituire il 17 gennaio, celebrazione di Sant'Antonio Abbate, protettore di fornai e pizzaioli, la giornata cittadina del pizzaiolo napoletano. La giornata di oggi mette insieme tutte le anime dei pizzaioli napoletani riprendendo un'abitudine che ci ha portato, un costume che ci ha portato a conseguire un risultato davvero straordinario del riconoscimento dell'arte del pizzaiolo napoletano come un bene immateriale dell'UNESCO. E' un patrimonio dell'umanità. Nello stesso tempo con oggi non solo festeggiamo una tradizione, nello stesso tempo l'impegno che mettiamo in campo come giunta comunale è quello di proporre al Consiglio di istituire nella giornata di oggi Sant'Antuono la giornata cittadina del pizzaiolo lavorando perché diventi la giornata di altre città fino ad arrivare a una giornata nazionale. L'obiettivo dunque è coinvolgere l'intera città nella promozione dell'arte del pizzaiolo e rendere la pizza protagonista di eventi e manifestazioni anche di carattere benefico e culturale.